Buongiorno, sono state consegnate le liste per la prossima competizione elettorale del 12 giugno. Possiamo affermare con certezza che l'unico voto utile è votare il dottor Tito Del Rico come sindaco della nostra città. Ed io lo sostengo in una mia lista, candidandomi a consigliere comunale, la lista Lettieri. Questo per dare continuità ai tanti progetti che sono in corso, per non disperdere la conoscenza, la capacità, i sacrifici che i cittadini acerrano hanno fatto in questi anni per migliorare la nostra città. Pertanto il 12 giugno si deve votare così. Si deve mettere la X sul nome del dottor Tito Del Rico. È indispensabile mettere la X sulla lista Lettieri e bisogna scrivere il mio cognome Lettieri a fianco alla lista Lettieri per continuare ad amministrare bene la nostra città.